ciao a tutti sono francesco ferreri da total guitar academy e questo è il mio nuovo libro di tecnica 101 warm up 101 sono 101 esercizi warm up sono 101 esercizi di riscaldamento esercizi cromatici che hanno una funzione preliminare a uno studio sia un studio tecnico che hanno studio di brani o altro tipo questo libro è adatto per tutti i tipi di chitarristi chitarristi che già suonano da alcuni anni o chitarristi che sono all'inizio del loro percorso perché perché ha una funzione differente da tutti gli altri libri di tecnica che ho pubblicato nel corso degli anni infatti questo libro serve per attivare la memoria muscolare serve per aumentare l'indipendenza delle dita e automatizzare quei movimenti che sono necessari per le nostre vita affinché possiamo suonare quello che ci pare il libro contiene alla fine la spiegazione della scala usata in tutto il libro che la scala cromatica è un'accurata trascrizione del volo del calabrone dove praticamente viene utilizzata vengono utilizzati in gran parte degli esercizi che troverete nel libro il volo del calabrone è un brano celebre di nicolai rinsikorsakov ed è molto divertente poterlo suonare e mettere in pratica quello che si è studiato nel corso del tempo spero che vi possa piacere ciao a tutti e alla prossima